Ciao a tutti gli amici di Drummers Channel Made in Italy, sono Furio Chirico, benvenuti alla seconda lezione del programma accademico. In questa lezione conteniamo l'approfondimento delle impostazioni delle mani, in particolare la tecnica Müller e i suoi movimenti fondamentali Wheel Motion e Pump in Motion. Vedremo anche la Furio Chirico Pump in Motion che riguarda variazioni tecniche di impostazioni da me ideate applicate ai ruolimenti che fin dagli anni 70 hanno caratterizzato il mio modo di suonare. Grazie. 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 Grazie a tutti.